Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Benvenuti a NetTalk, amici della rete. Oggi ci tuffiamo in un tema che sta davvero rivoluzionando il modo in cui cerchiamo informazioni online. Passaggio dalle parole chiave, quelle che usavamo una volta alle conversazioni. Già, tarlo chiave. Avete presente quando su Google si digitava che ne so, miglior ristorante Roma? Sì. E ci si trovava davanti una valanga di risultati spesso inutili. Eh sì, un'impresa spesso ardua e frustante davvero. Ecco, ora immaginate di poter porre domande complesse, proprio come fareste con un esperto in carne ed ossa e di ricevere risposte precise e complete. E questa è la promessa dell'intelligenza artificiale conversazionale con sistemi come già GPT, BARD, sistemi che parlano la nostra lingua. Una vera rivoluzione, eh? Apre davvero nuove strade. Assolutamente. Pensate ad esempio alla ricerca multimodale che ci permetterà di cercare informazioni non solo tramite testo ma anche usando immagini, audio e video. Incredibile. Un vero e proprio salto nel futuro. Già, ma prima di perderci in scenari futuristici torniamo alle basi. Volentieri. Come funziona questa magia della ricerca conversazionale? La chiave di tutto sono i modelli linguistici di grandi dimensioni, noti anche come LLM. Possiamo immaginarli come enormi cervelli digitali che hanno imparato a comprendere il linguaggio umano. Ah. Non solo singole parole, ma intere frasi e il loro significato. Quindi invece di limitarci a digitare miglior ristorante Roma, potremmo chiedere, se ne so, vorrei un ristorante romano con cucina tipica, non troppo turistico e con un'ampia scelta di vini. Ah, sì. Quasi come parlare con un amico che conosce bene la città. Esattamente. E la cosa sorprendente è che questi sistemi non solo capiscono la domanda, ma sono in grado di fornire risposte pertinenti e dettagliate, attingendo a un'immensa mole di dati. Pazzesco. Eh già. La ricerca diventa un dialogo, una vera e propria conversazione. Esatto. Ma quali sono i protocomisti di questa nuova era? Beh, al momento i nomi più in voga sono ChatGPT, Perplexity e Bard. Ok. O l'uno con le sue peculiarità. ChatGPT eccelle nella conversazione e nella creazione di testi. Perplexity si concentra sulla ricerca accurata, citando le fonti come un vero e proprio ricercatore. Interessante. Mentre Bard sfrutta la vastissima base di conoscenza dei Google per offrire informazioni sempre aggiornate. Quindi, se cerco un compagno di brainstorming creativo, ChatGPT è l'ideale. Se bisogno di informazioni precise e affidabili per una ricerca accademica, Perplexity fa il caso mio. Certamente. E se voglio risposte concise e aggiornate su qualsiasi argomento, Bard è la scelta giusta. Proprio così. Avere a disposizione strumenti così potenti è incredibile, non trovate. Assolutamente. Ma questa rivoluzione, come ogni grande cambiamento, porta con sé delle sfide. E la sfida più grande, forse, la sta affrontando proprio Google, il gigante che ha costruito il suo impero sulle parole chiave. Vero. Google si trova di fronte a un bivio epocale. Adattarsi a questo nuovo mondo della ricerca conversazionale o rischiare di perdere il suo primato. Un vero e proprio terremoto per il re dei motori di ricerca. Ma come si sta muovendo Google per restare a passo con i tempi? Beh, non sta certo a guardare. Ha lanciato il suo sistema di intelligente artificiale conversazionale Bard e sta cercando di integrare l'AI nei suoi risultati di ricerca. La sfida però è enorme perché tutto il suo modello di business si basa sulle parole chiave, non sulle conversazioni. Capisco. E non dimentichiamo la questione della fiducia. Gli utenti si aspettano da Google risposte precise e affidabili. Ma come garantire la stessa affidabilità quando si ha a che fare con sistemi di intelligenza artificiale che possono commettere errori o essere manipolati? Eh già, è un nodo cruciale. Google dovrà lavorare sodo per dimostrare di poter garantire la stessa qualità e affidabilità anche in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la sua capacità di adattamento potrebbe determinare il futuro della ricerca online. Esattamente. Riuscirò il gigante a rinnovarsi o assisteremo all'ascesa di nuovi protagonisti? Una domanda che ci lascia con il fiato sospeso. Eh già. Ma le implicazioni di questa rivoluzione vanno ben oltre Google. Pensate all'impatto sul mondo del lavoro, dell'educazione, del marketing, del giornalismo. Eh sì, preparatevi perché nella prossima parte del nostro viaggio esploreremo proprio questi scenari. Come la ricerca conversazionale sta trasformando il nostro modo di lavorare, di imparare e di interagire con il mondo. Bentornati a NetTalk. Nella prima parte abbiamo parlato di questa incredibile evoluzione della ricerca online, da semplici parole chiave a conversazioni complesse grazie all'intelligenza artificiale. È come se stessimo passando da un dizionario o un vero e proprio interlocutore. Esattamente. Un esperto che ci guida nella ricerca di informazioni. E questa trasformazione ha prescenari incredibili in diversi settori. Certo. L'intelligenza artificiale non può sostituire il ruolo fondamentale degli insegnanti. Questo è vero. Ma può diventare un alleato prezioso per creare un'esperienza educativa più coinvolgente e personalizzata. Un'opportunità incredibile. Cinta. Ma che come ogni novità tecnologica va gestita con attenzione e consapevolezza. Assolutamente. Pensiamo al mondo del lavoro. Sì. Molti si chiedono se l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Una paura comprensibile visto che l'automazione sta già trasformando molti settori. È vero, ma è importante ricordare che l'intelligenza artificiale può anche creare nuove opportunità. In che senso? Beh, pensate a tutti i lavori che nasceranno intorno allo sviluppo, alla gestione e all'applicazione di queste tecnologie. Quindi non si tratta solo di perdere il lavoro, ma di adattarsi. Sì. Di acquisire nuove competenze per lavorare in sinergia con le macchine. Esattamente. E questo vale per tutti i settori, dal marketing al giornalismo. L'intelligenza artificiale può aiutarci ad automatizzare compiti ripetitivi, a personalizzare i contenuti, a raggiungere il pubblico in modo più efficace. Parlando di marketing, mi ha colpito la possibilità di creare campagne pubblicitarie su misura per ogni utente. Immaginate di vedere solo pubblicità di prodotti che vi interessano davvero senza essere bombardati da messaggi generici e poco pertinenti. Sarebbe un bel cambiamento, no? E pensate alle potenzialità per il giornalismo. Sistemi di intelligenza artificiale che aiutano i giornalisti a verificare le fonti, a tradurre articoli, a scrivere notizie di cronaca in modo veloce e preciso, lasciando ai giornalisti il tempo di concentrarsi su inchieste e approfondimenti. Certo. È fondamentale che l'uomo rimanga al centro del processo decisionale. Assolutamente. Prendendo la qualità e l'etica dell'informazione. Assolutamente. Ma torniamo un attimo al tema della personalizzazione. Abbiamo parlato di pubblicità e di contenuti, ma le applicazioni sono infinite. Infinite. Beh sì, immagino c'è un mondo in cui anche la ricerca di informazioni è personalizzata. Un motore di ricerca che conosce i nostri interessi, le nostre preferenze, le nostre esperienze passate e ci offre risultati su misura. Sarebbe come avere un assistente personale che filtra e organizza le informazioni per noi, aiutandoci a trovare quello che cerchiamo in modo più veloce e preciso. Sembra fantascienza, ma in realtà siamo già sulla strada giusta. E chissà quali altre sorprese ci riserva futuro. Davvero. Prima di addentrarci ulteriormente in questi scenari futuristici, vorrei però tornare un attimo sulla questione dei rischi. Abbiamo parlato delle opportunità, ma è importante non sottovalutare le possibili insidie. Vero. La personalizzazione, ad esempio, può portare a una sorta di bolla di filtraggio. Esatto. In cui siamo esposti solo a informazioni che confermano le nostre idee preesistenti. Esatto. E questo può limitare la nostra capacità di confrontarci con opinioni diverse, di avere una visione completa e obiettiva della realtà. Un rischio da non sottovalutare, soprattutto in un'epoca in cui la disinformazione e la polarizzazione sono sempre più diffuse. E non dimenticiamo la questione della privacy. L'intelligenza artificiale si basa sull'analisi di enormi quantità di dati. Ma chi controlla questi dati? E come possiamo garantire che vengano utilizzati in modo responsabile e etico? Domande cruciali, a cui dobbiamo trovare risposte chiare e condivise. E sì. Per evitare che la rivoluzione della ricerca si trasformi in un incubo orwelliano. Nella prossima parte del nostro viaggio esploreremo proprio queste sfide, cercando di capire come possiamo governare questa potente tecnologia per far sì che sia davvero al servizio del progresso umano. Ben tornati a NetTalk per l'ultima tappa del nostro viaggio nel mondo della ricerca online. Finora abbiamo visto come l'intelligenza artificiale stia trasformando radicalmente il modo in cui cerchiamo informazioni, aprendo scenari entusiasmanti ma anche sollevando interrogativi cruciali. Eh sì, è proprio così. Abbiamo esplorato le incredibili potenzialità della ricerca conversazionale. La sua capacità di personalizzare i risultati, di automatizzare compiti complessi, di rivoluzionare settori come l'educazione, il marketing e il giornalismo. Ma abbiamo anche toccato con mano i rischi che questa rivoluzione comporta, dalla diffusione di informazioni false o distorte? Ah sì, alla creazione di bolle di filtraggio, fino a questione fondamentale della privacy. Esatto. E in questa ultima parte del nostro viaggio vorrei concentrarmi proprio su queste sfide, cercando di capire come possiamo affrontare i rischi e governare questa potente tecnologia affinché sia davvero al servizio dell'umanità. Un compito arduo, ma fondamentale per costruire un futuro in cui l'intelligenza artificiale sia un'alleata preziosa e non una minaccia. Da dove possiamo cominciare? Beh, un primo passo fondamentale è la consapevolezza. In che senso? Dobbiamo comprendere a fondo il funzionamento di queste tecnologie, i loro limiti e le loro potenzialità, per poterle utilizzare in modo responsabile e critico. Quindi non basta sapere usare chat GPT o BARD, ma bisogna anche capire cosa c'è dietro, come funzionano questi sistemi, quali sono i loro pregi e i loro difetti. Esattamente. E questo vale per tutti, non solo per gli esperti di tecnologia. Dobbiamo educare le nuove generazioni a un uso consapevole e critico dell'intelligenza artificiale, a non accettare passivamente le informazioni che ci vengono fornite, a sviluppare un sano senso critico. Un'educazione digitale a tre senza senza gradi che ci insegni non solo a usare gli strumenti, ma anche a comprenderne funzionamento e l'impatto sulla nostra vita. Proprio così. E oltre all'educazione è fondamentale un impegno concreto da parte di chi sviluppa queste tecnologie. Le aziende che creano sistemi di intelligenza artificiale devono assumersi la responsabilità di garantire la trasparenza, l'affidabilità e l'etica dei loro prodotti. Quindi non basta creare sistemi sempre più potenti e sofisticati, ma bisogna anche preoccuparsi di come vengono utilizzati, di quali informazioni diffondono, di quali valori promuovono. Esatto. E questo implica anche un ruolo attivo da parte dei governi che devono creare un quadro normativo chiaro e condiviso per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale, proteggere la privacy dei cittadini e garantire un accesso equo a queste tecnologie. Insomma, un impegno collettivo che coinvolge tutti gli attori in gioco. Sviluppatori, istituzioni, cittadini. Proprio così. Perché la rivoluzione dell'intelligenza artificiale non è un evento lontano e astratto. Vero. Ma una realtà che sta già trasformando il nostro presente e che avrà un impatto profondo sul nostro futuro. E sta a noi decidere quale futuro vogliamo costruire. Eh già. Un futuro in cui l'intelligenza artificiale è al servizio del progresso umano o un futuro in cui l'uomo è su cube delle macchine. Una scelta cruciale che richiede impegno, consapevolezza e un costante dialogo tra tutti gli attori in gioco. E con questa riflessione si conclude il nostro viaggio nel mondo della ricerca online. Grazie per averci seguito in questa puntata di Net Talk. Continuate a esplorare, a farvi domande, a rimanere curiosi perché il futuro è nelle nostre mani e sta a noi plasmarlo con saggezza e responsabilità. Grazie per aver ascoltato Net Talk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio, dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro. Rimani connesso. Rimani connesso. Rimani connesso. Rimani connesso. Rimani connesso. Rimani connesso.